Consentitemi di essere esplicito fin dall'inizio. Non credo che vi piacerò. I signori proveranno invidia, le signori disgusto. Non vi piacerò affatto. Non vi piacerò ora e vi piacerò ancor meno in seguito. Signore, un avvertimento. Io sono pronto a tutto, in qualsiasi momento. Che questo sia un merito, un demerito, è difficile da dire ora. Quello che è certo è che sono un libertino. Continuerò a spassarmela, a provare intense passioni. Oh, non doletevene. Vi procurerebbe soltanto afflizione. Traete le vostre conclusioni stando alla stessa distanza con cui stareste se io infilassi la mia lingua sotto le vostre sottane. Signori, non disperate. Sono pronto a tutto io. Il mio avvertimento vale anche per voi. Placate le vostre squallide erezioni. Quando avrete un amplesso, saprò di che cosa siete capaci. Allora vedrò se le mie aspettative saranno venute meno. Vi auguro di fottere, immaginando che la vostra segreta amante vi stia spiando di nascosto. Di provare le stesse sensazioni che ho provato io, e che provo, e di domandarvi. È questo quello che provava lui. avrà provato qualcosa di più intenso. O esiste un muro di disgrazia contro cui tutti battiamo la testa in quel fulgido eterno momento. Questo è tutto. Questo è il mio prologo. Senza rima, senza decoro. Non è quello che vi aspettavate, vero? Ma io non ho nessuna intenzione di piacervi.